Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, nuovo episodio della nostra partita con Zenobia e la fazione Palmira in Total War Imperi Divisi La campagna con il dittator Lorenz che ha conquistato Brindisi e Wall 225 che ha portato avanti il mio piano però purtroppo poi questi qua ci hanno tradito Pensavo questi sarebbero diventati stati clienti, invece no Quindi ora li dovremo andare a punire nella maniera più terribile possibile Ho intenzione di attaccarli Li attaccheremo ovviamente non tutti assieme perché non ha senso fare le cose in maniera difficile Cercheremo di farle in maniera facile Quindi andiamo a spostare questi qui così magari al prossimo turno possiamo già attaccare Senza aspettare troppo Invadiamo i loro territori come proprio come se non ci fossero domani Ok può arrivare fino qua Chiederemo a qualcun altro di farci attaccare loro Poi intanto ho visto che purtroppo queste hanno rotto il loro trattato commerciale ma ho provato e sembra che siano abbastanza volenterosi nel riproporsolo quindi Vediamo un po' 3000 moderata No 2000 magari Not necessari Che cacchio è Accordo, accordo, accordo commerciale Alta Vai 2000 Con queste 2000 ce ne vorrei pagare un problema serio Che si è creato qua a Brindisi È un problema che si legge qua a meno 6 di cibo Andiamo a distruggere queste slam E qua andiamo a fare il pisciolino Perfetto Poi secondo me possiamo alzare le tasse Al massimo Questo farà incazzare un po' i populisti Quindi populista, populista Giusto Non bisogna alzare le tasse Però Rischio 24% Facciamo che le alziamo solo così 10 Ok Dove ci sono le famiglie ebree? Ora vediamo cosa fare Tu ti puoi muovere Zenobia? No To serve Rome Allora io voglio questo esercito qua Ah tu puoi essere potenziato Come flottaro direi questa volta Capacità di movimento sulla mappa della campagna come flottaro direi che ci sta L'esercito invece me lo fai scendere Disembarking now Ready for battle Ok non possiamo reclutare niente e nient'altro Ci manca il cibo in questo istante Vediamo se riusciamo ad andare a recuperarlo nel nord Qua dovrei avere una spia Andiamo avanti la spia prima di tutto Dai forza Che qua è libero Cibo Dammi il cibo Eeeh Oppa Rischio manca sempre il cibo Dovunque io gioco manca il cibo Eeeh no Niente 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 Eeeh Non so se abbiamo possibilità di sistemare Questa faccenda francamente La faccenda del cibo Velocemente Temo di no Poi sto guardando che qua abbiamo due eserciti Vorrei unirli in uno solo un pochino più Massiccio Senzalmente diamo tutto A Eeeh Questo qui Quindi Eh bella lì Quello era generale quello più forte Mi sembra fosse questo quello più forte Esatto Tu sei Solo una stellina At your command Tu ti pommoves Ok Tu qui Tu Torn A trebisonda Qua abbiamo delle Caserme di livello alto Quindi Ci muoviamo E tu Penso che ti posso muovere di qua Perché ho intenzione di fare proprio Il maledetto Ok Qua dentro c'è un tizio Si Eeeh Fuori On my way Voglio vedere tutto io Questo è un altro tizio Eeeh Di qua Ok Poi stavo controllando che con gli alani abbiamo ancora un accordo commerciale Però non è che ci vogliono tanto bene in questo momento Anzi no Sono neutrali Eeeh Trattati con gli alani Sassani Sconfinamenti contro i sassani Di 8 Molto bene I welcome you Worthy speaker I listen Fatto dire un'aggressione Bassa Allora attualmente stiamo ricercando che cosa Noi Questo Probabilmente per andare Si Questo qua che lampeggia Eeeh Cambio Facciamo questo Perché voglio che i trattati Valgano di più Questo torna di qui Fammi così Gadagniamo 8000 Ma dovrebbe andar bene Sto pensando Se non è il caso di Tattata Ah hanno anche la caia I I latini Hanno anche la caia Poi mi avete scritto nei commenti Di andare a rubare la gente Cioè dovrei Tipo andare qui E corromperlo Ma costa un botto 5000 Quindi dobbiamo Farlo bene ragazzi Dobbiamo pensarci bene Dobbiamo pensarci proprio bene Allora l'Egitto Non è di nessuno Quindi andiamo a toglierlo Ditto in Egitto Anche se è uno di quelli Che ci fa guadagnare di più E lo vado a mettere Qua ci sono gli ebrei Ah qua c'era già questo Allora gli ebrei mettiamo Un cuoricino Poi Così Vanno a posto Famiglie latine Io metterei il cuoricino Anche le famiglie latine Io Così possiamo alzare le tasse Un pochino di più Rischio il 19% Non va troppo male Dai Secondo me possiamo Cambiare turno Allora ho mosso tutti C'è solo la legione di Giove Che rimane lì a camperare Sostanzialmente E anche tu rimani qua a camperare Effettivamente Potrei mettere il tipo qua A razziare C'è il comando razia Ordine pubblico Sì Mantenimento dell'unità Morale Sì So se vale la pena però Ah possiamo potenziare Un generale Ah Allora ti diamo Questo E Questo Perché comunque Un po' di forza ci vuole E ci sono I prescelti di Zenobia Però adesso con queste Abbiamo fatto un accordo commerciale Quindi Penso non abbiano Intenzione di attaccarci Subito Insomma Potremmo fare accordi commerciali Anche con altri Ispagna Citerior Ora ci adora Allora Accorda commerciale Fintanto che esisti Dai ci Ci adori Ci adori Sì Militare contro Lusitania Contro l'impero gallico E non vuoi fare L'accordo commerciale Oh signor Quando uno gioca EO4 È abituato a non leggere Bassa C'è scritto Lo facciamo Perché No Sì Boh Non interessa Quello che commerciate Almeno mi dai una spiegazione Invece no Ti voglio bene Ma non voglio Vabbè Vabbè Comunque Cambio turno Vediamo un po' Probabilmente abbiamo Meno 6 Anche perché ho messo Le truppe di qua Però Cioè siamo in territori stranieri Non ho mai capito bene Come consumano il cibo qua Però pazienza Cioè non so se hanno Ogni armato a consumo Di cibo Che è più alto Se sei in territori stranieri Eccetera Eccetera Non ho davvero mai capito Però va bene Lo stesso Impero Gallico Fa cose Muove le truppe Ok Adesso attacchiamo Benevento Ragazzi oggi Voglio assolutamente Attaccare Roma Vediamo un po' Cosa fanno i goti Che mi avete detto Di non attaccare E giustamente Non voglio farlo E vanno verso Tessalonica Allora Questi qua Ora vanno verso Tessalonica Molto meglio Perdere a Polonia Pontica Che Tessalonica Di sicuro E vediamo Se riusciamo A stringere Ok Loro hanno le truppe qua Bene Perché voglio attaccare Subito Trionfo Pestilenza Da Polonia Pontica Beh Guarda Avevo proprio Intenzione Di muovere Queste truppe E tu mi stai dando Anche un motivo In più Dentro in acqua Perfetto Bene Allora Iniziamo con le cose Semplici Tu non riesci Ad attaccare Qua era un turno No Ce la fai Ce la fai Però Zanovia Ha le tette Più grosse Quindi La conquista Lei Occupa Il cibo È tornato Senza liti Di Imperium Così controlliamo Subito Di poter sistemare Mettiamo Il cuoricino I romani Così Loro Sono a posto E Basta Allora Qua potrei andare A corromperti Abbassando Il potere Delle famiglie Greche Ma che sono Le uniche Che non ci rompono Quelle romane Purtroppo Hanno I loro leader Che sono Dei geni Maledetti Del male 17 Di 0 Con i tratti Positivi C'è proprio Proprio È stato un dispiacere Quando è diventato il capo Della famiglia Sballata Comunque adesso Faremo un Blitzkrieg Allora Attaccheremo qua Attaccheremo qui Tu hai l'esercito qua Quindi in un turno Non mi rompi le palle Poi da pure Attacola Perfetto Quindi questa È l'operazione Blitzkrieg Però Prima di tutto Fammi vedere un po' Cosa c'è qua E torno verso l'alto Tu vai ad attaccare questi Tienilo sotto Sotto tiro Ad ascoli Bene Tu vai di qui Tu vai di qua Ah anche questa Vai Ok Grazie bravo Bravissimo Potenziamo ancora Il pistolino Allora La tua flotta La tua cosa Diventa corpo a corpo E tu Per ora ti aumento La capacità di movimento Sulla mappa Sta diventando Un generale interessante Intanto Abbiamo un po' di soldi Quindi ora Andiamo a sistemare porti Porticcioli Tutte quelle robe lì Qua c'è da costruire Allora Facciamo una bella cosa Qua Cambiamo idea Subito Facciamo Un pontile militare È una zona dove Potremmo Dover reclutare Delle navi E qua per ora Non penso di poter Reclutare navi interessanti Francamente Quindi voglio un pontile Di quelli di OP Poi ovviamente Ci va questo E Niente Luoghi di culto Oserei dire Ci mettiamo un tempio Ok va bene Qua potremmo andare a conquistare Cosenza Oh questo esercito Potrebbe servirmi Per attaccare Roma Con più Con più stile Potremmo già arrivare qua Potremmo già arrivare qua O addirittura O addirittura Potrei conquistare Ascoli In questo turno Preferisco andare a nord Ok Bravo Tu vai a nord Che comunque Mi dai scouting Qua se perdiamo Ste città Poi non mi interessa Non è così importante Pesciolino Anzi punto Visto che non è così importante Andiamo a migliorare Prima le città In questa zona Cibo Cibo Perché noi abbiamo Due granai In realtà Sia l'Egitto Che La Mesopotamia Hanno questa struttura Qui in Egitto Sarebbe da convertire Questo In qualcos'altro Secondo me Potremmo ricavarne Molto di più Ah Devo attaccare Quelli là Vediamo se intanto Queste non cambia No Allora sei proprio Un pazzoio Molto bene Allora Tu sei in guerra con chi Sarscan Alani E Nasamoni Parliamo con i nostri Nuovi amici Alani del nord Dunque abbiamo Ben meno 22 Perché Allora Partecipa alla guerra Contro Sarscan Bassa Nasamoni Ben detto Partecipa Alla guerra Contro Sarscan Moderata Partecipa La guerra La guerra Contro Sarscan Pagamenti Offri 600 L'hanno accettato Molto bene Allora Visto che siamo In territorio straniero Non c'è Rientra nessuno E vai Boom Poi tu sei qui No ragazzi Voglio proprio fare Qua in Asia Un blitzkrieg Puliamo tutto Boom Prossimo turno Questi qua Sono morti 100% 22 di cibo Qua ci sarà da Convertire un po' di roba Perché tu Il prossimo turno Puoi arrivare qua Sì Perfetto E questo esercito Da qua Non può praticamente Fare niente Cioè non può arrivare Nei miei territori Può solo attaccarmi Pura Se vuole Ma Ha di certo paura Delle mie truppe Questa è l'unica cosa certa Allora Vediamo un po' Ho bisogno Di informazioni Tu mi viaggi Anzi no Qua non c'è nessuno Perfetto Qua è Versamul Ma non vedo eserciti Di questi qua No c'è questo Allora Qua dobbiamo beccare Il momento in cui Lui è fuori dalle mura Se no Diventa lunga la battaglia Questo Per le navi pesanti Tu te stai ferma La legione di Nabu E questa qua Per ora vai di qua Allora Tu Ordine pubblico Ehi Allora Ordine pubblico Riccazza di animante Delle attività produttive Cultura No Sentite Ho bisogno proprio Di questo Si devono muovere tutti Più rapidamente possibile L'unica cosa sicura Della vita Qua invece Potremmo andare a guardare Quello della corruzione Corruzione Meno 4 In tutta la fazione Infatti abbiamo guadagnato un po' Ok Questi non li muoviamo Questi qua Non li muoviamo Questi tornano Trebisonda Bene 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 Dai Li abbiamo mossi tutti Direi Ok Quindi fra un turno Finiamo con la tech Spero sia già pagata Perché se no Cosa vuol dire Vediamo sotto zero E con la guerra Quelli là Questi qua ci vogliono Un po' meno male Ah probabilmente Siamo saliti di rank Quindi questi qua Ci hanno iniziato Di arompori più Infatti questi qua Siamo proprio stili Intanto che abbiamo questi In teoria Siamo salvi Nasamonic Che ci amano Va bene dai Cambio turno Il prossimo Secondo me È quello Della conquista Di Roma Ragazzi Vediamo un po' Cosa succede Ve lo dico subito Io non ho intenzione Di combattere La battaglia di Roma A meno che non sia necessario Perché Questi scendono giù Da questa parte Attenzione Quindi ora Ci camperiamo Dentro la città Ci camperiamo Dentro la città Tessalonica Circondata Questi qua Scendono in Grecia E allora scendiamo in Grecia Anche noi Questi vanno in giro Va bene Sassanidi Vediamo cosa fa Questa satrapia Che è l'unica Che mi importa In questo momento Non ha mosso Neanche le truppe Oh Non tocca ancora No No Eccoli qua Ok vanno in Ok hanno perso Un turno Perfetto Vestilenza Diopolis Fischiolino Devastazione Bantitismo Meno 10 Capacità di movimento Sulla mappa della campagna Aquila rubata E basta Allora questi qua Andate lì Elite emanato Ah abbiamo finito la tech Perfetto Se dovessimo finire questo 7 turni Non ne vale la pena Andiamo a fare questo Che L'istia sotto è iniziato Vediamo qua Meno 3 Rischio 0% Quindi non rompete Mille valle Qua addirittura Possiamo andare In galassia E dirgli Ascolta un po' Anzi Allora la galassia Ci dà 1000 Questa qua 2000 Ma stiamo pazzi 2000 da che cosa? Carico fiscale Sì va bene Ma Quindi la regione Che ci dà più i soldi Adesso non è l'Egitto Ero rimasto indietro io Araba e Magna Sire Egitto Acaia Wey Acaia Ma scusa Arabia Magna Ce l'abbiamo già Siria ce l'abbiamo già Egitto L'ho tolto Volendo potremmo metterlo qui E toglierlo dall'Acaia Penso faremo proprio così Allora qua lo andiamo a togliere Egyptus Fatto Poi sistemiamo Questa guerra In questa maniera Molto po' Rapida E Ok Fazione distrutta Oh no Che cattivo Ok Allora qua dobbiamo di sicuro Girare i centri città Come prima cosa Dammi il più vacche possibile E Adesso vediamo di recuperare Anche il più cibo possibile Riccazza derivata Dall'agricoltura Qua Sarà un posto in cui facciamo Agricoltura Pressione fiscale Bene Ordine pubblico Meno duro banditismo Sono belle strutture queste Le altre le modificheremo In futuro Poi mi voglio fare Pisciolini però Eh Poi Questa me la Distrug Sì Intanto Cioè recluteremo mai qua No Non recluteremo mai qua Distruggi tutto Cioè almeno queste due Queste robe qua Le andiamo a distruggere tutte Elefanti però Sono già di livello 3 Eh Cioè almeno una caserma qua Così se capita Possiamo reclutare qualcosa Top Teniamoci questa assicurazione Sulla vita Bene Allora Qua l'ordine pubblico È a zero Nonostante Le mie Ok Allora Qua possiamo attaccare Con te questo Poi con te Attaccheremo in questa zona Te attaccherai qui E poi c'è la morte Allora abbiamo bisogno Solo di sapere Se tu sei uscito Sei uscito Pum 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 Beh potrei attaccare In questo turno Tu ci arrivi dopo qua Vai più avanti possibile Tu qua ci arrivi A moll non c'è nessuno Giusto? Ah qua c'è gente Ok Quindi la dobbiamo pensare bene La dobbiamo pensare bene Potenza questo Che ci dà più cibo E ora Prima di muovere Lei Vediamo a sud Qua sta ancora attaccando lì Quindi non ci sono problemi Qua ho visto movimenti Verso di lui Quindi qua Giriamo questo Per aumentare La guarnigione Ah Il lilice usiliari Interessante Hm Bonus verso sfanteria Non ne hanno però Sono più forti Di quelle normali Ah può solo uno Ne posso prendere Ma spade Ne abbiamo già No prendo questi Sì sì Qua stanno arrivando Hanno un sacco di unità Hanno un sacco di unità Qua andiamo A dargli fastidio a Rimini Così magari Vanno un po' su Un po' giù Sono insicuri Su Roma Non c'è nessuno Ragazzi Non la combatto Conquista di Roma Zenobia non muore Non è morta Che strano eh Yeeeh Allora in teoria Adesso dovremmo avere Un bonus Derivante Dalla Questo Quindi mi aspetto Un più Mi aspetto un più Che non vedo Allora intanto qua Questo è a posto Quindi siamo felici Mi aspetto un più Che non vedo Ultimi traico A livello 4 Ma che cacchio State facendo Ma si può Pazzi Ok dobbiamo stare Molto attenti Molto molto attenti Qua non abbiamo dentro Picchieri purtroppo Mi piacerebbe tanto Averli picchieri Stai così Che è pericoloso Se no Non sappiamo Cosa c'è a nord Ma potremmo Saperlo Vabbè prossimo turno Direi di fare Cambio turno dunque Uh Attacchiamo questi Allora Questo Riusciamo ad attaccarlo Dovremmo riuscire a vincere Qua dentro ci sono 8 Che entrano in aiuto Ma ok Questo è un esercito Importante Quindi ci sarà Una bella battaglia Qua Non so In questo momento Se c'è dentro Posso fare cose Allora Disordine No Però avvicinati Che voglio sapere Almeno che c'è dentro Dai Di più Ti sei allontanato Non ti sei avvicinato Beh questi qua Sono proprio scarsi Ragioniamo Potrei attaccare Adesso qua Tu attacchi lì Ma secondo me È il turno Di attaccarli Proprio adesso Allora Vediamo un attimo Tu sei in guerra Con sempre i soliti due Quindi proviamo a chiedere Sempre agli alani Come prima scelta Partecipo alla guerra Contro questi Passa Non ho soldi In questo turno Però Non ho soldi In questo turno Com'è che li ho spesi In blu Ho messo di sicuro Questo in costruzione Ma Ne vale la pena Melfi va a 7 Disquallore Sì Vabbè Non proviamo che risolveremo dopo Proviamo con questi Partecipa alla guerra Contro Questi Moderata Io ci provo Magari davvero Questa è la differenza Ragazzi E va bene Allora Cos'è che posso rinunciare Voglio farlo a questo turno Qua non ho fatto niente In sto turno Qua non ho fatto niente In sto turno Qua sto reclutando Qua cambiamo questi Nasamoni Partecipa alla guerra Contro Questi Ok Ok Non accettato Siamo in guerra Siamo in guerra Quindi Adesso attacchiamo Posso attaccarti subito? C'è Sì Posso E per ora Ti circondo Ok Poi attacchiamo questo Commander E marcia forzata Ragazzi Se becchiamo la Ah Nulla Questa Ah Ah Io pensavo fosse un esercito Sassanid Loro invece è un esercito Sassanid Quindi non c'è bisogno Di combattere Vai Allora è proprio il turno In cui parla questa cosa Yes sir Bene 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 Qua andiamo avanti ragazzi Non mi fermo più Tu fai parte di questa zona qua Maledetta Ci penseremo dopo Ma la Bactria Ci pensiamo dopo Dai questa battaglia Hai da combattere 75 78 Perfetto Perfetto Occupa Ok Tu sei della Bactria E sei della Bactria Ma io non sono in guerra con te Quindi prossimo turno Tu attacchi lì Perfetto Prossimo turno Tu attacchi lì E abbiamo eliminato Perlomeno anche questa Nel sud Vediamo se L'essere in guerra Assieme All'altro Ha sistemato Alani bene Fatto di non aggressione Transito militare Non mi ricordo più Se il transito militare Vale più o meno Non mi cambia niente Quanti soldi ho? Pochissimi Pagamenti Offri No Goditi Una cena Pago io Bene Guadagniamo 14.000 Adesso vediamo un po' Come funziona qua Perché stiamo rischiando tanto Tanto stiamo rischiando Qua in Italia E questo esercito Che sto portando di qui Renderà Questa zona Ancora più semplice Perché Poi abbiamo tre eserciti Con questo possiamo andare a nord Intanto possiamo passare Non possiamo Chi Ordine pubblico Pressione fiscale Poi effettivamente Questi qua sono da muovere Un pochino di più Ok Te sei tu Tu sei lì Ma non voglio proprio fare sconfinamenti O dare preteste di guerra A questi qua Quindi vai da quella parte Anche perché poi te Andrai pure tu In Italia Di sicuro E non penso che ci sia molto altro da fare Veri del sole Per ora state lì Potrei anche rompere la sedia Voglio andare a vedere meglio Cosa c'è in queste zone Però penso che Si possa fare cambio turno Abbastanza tranquillamente Ragazzi abbiamo conquistato Roma Sono abbastanza contento Ci stiamo espondendo anche Un sacco oriente Oltre che in Italia In Italia però è rischioso Stiamo giocando col fuoco Sia perché i goti Fanno i goti Sia perché Ci sono i romani Che però non hanno fatto niente Ok I sassanidi Non fanno nulla Adesso li attaccheremo Quando attaccheremo La Bactria Perché tanto Ci saranno solo La Bactria E Loro E loro hanno una solo città Quindi Se attacchiamo Entrambi Cosa Questo sconfinamento Così gratis Non ho mica capito Bassi fondi Bassi fondi anche a Roma Sassi mancanti Banchetti mitraici Allora Prima di tutto Facciamo un favore Qua togliamo questo E togliamo questo Poi sistemiamo Roma E questo va bene Poi dov'è che ci sono I bassi fondi Qua Perché ci sono I bassi fondi Cioè perché Si sono creati I bassi fondi Cos'è che ho distrutto Mi sembra Di aver distrutto niente Vabbè Finiamo La guerra qui Che in realtà Non saremo in pace Nel senso che Manca una città a nord Però No Vabbè In un turno Ce la dovremo fare On the move Tu non sei ma è vero No Ok ok Allora abbiamo messo Al sicuro Tutta l'aria Cioè Tutta È tutta contenuta In un palloncino Comunque manca solo Susia E questa qua Appunto Questa qua Adesso spostiamo Queste truppe A Pura Così Possiamo attaccarla Direttamente Quell'ordine pubblico Ok Quell'ordine pubblico Ok A sto punto Tu puoi arrivarci E Attacchiamo Perfetto Abbiamo occupato Anche questa Guadagniamo solo 10.000 Come mai sono scesi Così tanti soldi Forse sto aumentando Di troppo Il Mi sa cosa vogliamo fare Facciamo un Centro Mercantile Comentiamo il cibo Per ora Va bene così Quindi Mi ha messo A sicuro Anche la partia Non so se stiamo Viaggiando Al Fischia Siamo partiti qua Ragazzi Sto episodio Stiamo conquistando Come se non ci fossero domani Allora Rimasta solo quella E poi c'è Sarai Ora vorrei capire Tu Sei sotto assedio Hai fatto qualcosa Si è appena C'è un rischio Di epidemia Allora Alani Con cui abbiamo 29 Di relation Perché siamo amici Fatto di non aggressione No niente Mi sa che semplicemente Non è possibile Arrivare a un accordo Del genere Con questi signori Ora Dobbiamo capire Come muovere Gli eserciti Perché Ne serve Uno Per attaccare Qui E potremmo Effettivamente Fare Bactria E poi torniamo Indietro dopo Per attaccare I sassanidi E quello è uno Poi qua ne serve Uno per fare Che poi Possiamo anche fare Con così Uno Due Qua sono solo Due città Uno Due Tre Ma penso che forse Tre eserciti Basta Non sapete Allora a questo punto Tu Che ti ho fatto venire Di qua Torni di là Torni di là Inizia a venire Qui sopra E poi vediamo Il da farsi Intanto Qua potremmo Effettivamente Andare Più avanti Ancora Ma Non vorrei Addentrarmi In territori Pericolosi Poi vediamo Se qua possiamo Reclutare Qualche Agente Allora Posso prendere Una bella spia Questa qua Raggio Persuade Infiltrazione Ricchezza Arrivante Della cultura Ordine pubblico Influenza Culturale In questa zona Non ci serve Probabilità Di ferire Agente nemici Autodifesa Si vai Autodifesa Autodifesa Poi ne recutiamo Una qua Così la usiamo Un pochino Per il sud Questa qua Poi vediamo Un po' Qui Servono Tanti agenti Prendiamone Uno Visto che possiamo Amministrazione Militare Qua dentro Chi c'è? Nessuno Potremmo Proprio Metterci Questo Potremmo Proprio Metterci Lui Amministrazione Militare Che non è Male Panel Cicense No Amministrazione Civile Potrebbe anche Starci Velocità Di rintrigo Delle truppe Chissà se Lo metteranno Lì dentro E reclutiamo Qua Questo La dimostrazione Di forza E Tu entra Lì dentro Ne voglio Uno Qua Per vedere Un po' Perché Almeno Siamo più Sicuri Dopo Assassini Ad estremamente Esperienza Probabilità Di autodifesa Così Salvo Perché Lui si poteva Muovere Maledetto Tra l'altro Se avessi fatto Prima questa Sarebbe stato Meglio Più Uno Grado Di esperienza Però Non l'ho Fatto Perché Ho deciso Così Bene Vai qua Sovversione Militare Dimostrazione Di forza Fa riduce Il morale No Voglio fare Forse ho finito I soldi No Danni considerevoli Vai Non riuscita Peccato Che abbiamo Finito I soldi Allora Uno qua Ottimo Passare direttamente Di lì Poi Tu Mi vuoi vedere Cosa c'è di qua Tu te ne rimani lì Adesso Non vedo davvero Tanti agenti Qua potremmo iniziare A reclutare Delle unità Interessanti Ma io andrei Proprio Potente Qua Brundisium Cioè ci deve essere Una Qualcosa di potente Possiamo conquistare Cosenza Ma ho preferito Prendermi Il nord E adesso Quando possiamo muovere Le spie Possiamo sapere Cosa c'è qua E muoverci Di conseguenza Ma penso che Deve aver fatto abbastanza Ragazzi Per oggi Quindi Lascerò la palla Wall Vi facciamo Il piacere Di potenziare Gli eserciti Corruption Yes sir Così non deve farlo Lui E basta Dai Quindi ci salutiamo Qua Fatemi sapere Un po' Cosa ne pensate In questo episodio Ci siamo espansi Un bel po' Abbiamo conquistato 1 2 2 3 4 5 6 7 Provincia Di qua 8 9 10 11 12 12 12 12 città Ma I ebrei Hanno preso Anche la macedonia Quindi con questa notizia Sconfortante Come dice Jeremy Ci salutiamo qua E Non c'è rischio Di rivolta Da nessuna parte Quindi sono proprio Tutti bellissimi Contentissimi GG a tutti